Il dottor Davide Bisogno vi aspetta in via Starza 27 a Cava dei Tirreni. Con l'aumento del numero di turisti nella costiera amalfitana, le condizioni di lavoro degli autisti della città sud sono diventate insostenibili. Il forte afflusso di visitatori unito all'intenso caldo estivo ha portato gli autisti a lanciare un grido d'allarme. Sono 28 gli autisti che hanno dato in carico all'avvocato Gaia Onorato di Minori di trasmettere una nota alle autorità locali, denunciando la riduzione degli stalli per gli autobus e i pericoli per l'incolumità di passeggeri e conducenti. Complice il caldo dell'ultimo periodo, ma soprattutto il fatto che negli ultimi anni la costiera amalfitana ha visto un costante aumento del numero di turisti. Questa crescita, se da un lato rappresenta una risorsa economica per la regione, dall'altro ha creato notevoli problemi di gestione del traffico e della sicurezza. Gli autobus della città sud, che costituiscono un servizio essenziale per residenti e visitatori, sono ora sovraccarichi, con passeggeri spesso impossibilitati a salire sugli autobus a causa della riduzione degli stalli disponibili. La situazione al capolinea di Amalfi, denunciata dagli autisti di città sud, è particolarmente critica. Gli autisti sono costretti a gestire un traffico caotico e affrontano quotidiane aggressioni verbali e fisiche. La riduzione del numero di stalli per gli autobus da 12 a 6, decisa dall'amministrazione comunale, ha aggravato il problema rendendo ancora più difficile far fronte alla domanda crescente. Questo ha portato a frequenti salti delle fermate e ha messo a rischio la sicurezza dei passeggeri. Gli autisti della città sud chiedono interventi urgenti per migliorare le condizioni di lavoro e garantire un servizio sicuro ed efficace. Sollecitano le autorità locali a prendere misure rapide e concrete per aumentare il numero di stalli e migliorare la gestione del traffico. La situazione attuale non solo compromette la qualità del servizio, ma mette anche a rischio l'incolumità di lavoratori e utenti. La comunità locale è solidale con gli autisti e riconosce la gravità della situazione. Residenti e turisti si uniscono nell'appello per una rapida soluzione dei problemi, consapevoli che la sicurezza e l'efficienza del trasporto pubblico sono fondamentali per la sostenibilità del turismo nella regione. L'auspicio della comunità locale è che le autorità rispondano prontamente alle richieste degli autisti, mettendo in atto le misure necessarie per risolvere questa crisi.